Spettacolo mozzafiato a Silverstone. Bezzecchi e Marini dominano nelle libere 1 della MotoGP. Cari appassionati di motori e amanti della velocità, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui a Silverstone per raccontarvi tutte le emozioni scatenate dalla prima sessione di prove libere della MotoGP. E che inizio, ragazzi e ragazze. I nostri cuori hanno già raggiunto il regime di giri massimo solo nel giro di lancio. Bezzecchi e Marini, protagonisti in sella alle Munei VR46, hanno letteralmente dato spettacolo, conquistando le prime due posizioni. Pronti a immergerci nel dettaglio di questo elettrizzante spettacolo su due ruote? Scendiamo in pista! Analisi delle prestazioni. Il circuito di Silverstone si è risvegliato oggi con una ventata di adrenalina grazie ai portacolori della Munei VR46. Marco Bezzecchi ha mostrato una sicurezza impressionante in sella alla sua Desmo 16 GP, dettando il ritmo fin dal primo minuto. Il cronometro ha fermato il suo tempo a 2 minuti e 295 millesimi, segnando un inizio straordinario per il team. Ma non è stato da meno il suo compagno di squadra, Luca Marini, che ha letteralmente stretto i denti per terminare la sessione a soli 36 millesimi da Bezzecchi. Questo duello interno ci lascia già con il fiato sospeso per ciò che ci riserveranno le prossime sessioni. Aerodinamica e novità tecniche. Il Gran Premio di Gran Bretagna ha portato con sé non solo azioni in pista, ma anche una serie di novità tecniche. Diverse squadre hanno debuttato con il secondo pacchetto aerodinamico di questa stagione, e il confronto tra le diverse soluzioni è già un argomento acceso tra gli esperti e gli appassionati. La competizione non è solo tra i piloti, ma anche tra gli ingegneri che lavorano dietro le quinte per trovare il mix perfetto tra velocità e stabilità. Sorprese e delusioni. Non possiamo certo tralasciare le Ducati ufficiali, che sembrano aver bisogno di una marcia in più per conquistare le prime posizioni. Enea Bastianini è dodicesimo, e Pecco Bagnaia quattordicesimo, un inizio che sicuramente non si aspettavano, ma ricordate, cari spettatori, che è solo l'inizio e tutto può ancora accadere. Note finali. In definitiva, le Libere 1 a Silverstone C hanno regalato un assaggio di quello che promette di essere un weekend di pura passione e velocità. Bezzecchi e Marini, con le loro straordinarie performance, ci hanno mostrato il meglio del motociclismo italiano. Ma il gioco è appena iniziato, e vi invitiamo a rimanere sintonizzati su questo canale per tutti, gli aggiornamenti, le analisi e le emozioni che solo la MotoGP sa regalarci. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre impressioni, e di iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un secondo di azione in pista. E ricordate, la vera sfida è appena cominciata.